Cuccia è stata la figura, forse la figura più importante nell'Italia dell'intero dopoguerra, nel lungo corso del dopoguerra, ha avuto continuativamente la responsabilità di Mediobanca dal 46, quando la banca venne fondata fino alla morte praticamente, all'età di 92 anni, era ancora in pieno controllo dell'attività della banca. Nessun'altra personalità economica ha avuto questo peso e questa continuità, non Menichella, natore della Banca d'Italia, non Carli, neanche l'avvocato Agnelli, ciascuno di queste figure ha avuto importanti ruoli per 10, 15, 20 anni. Cuccia l'ha esercitato tra 40 e 50 anni, in un contatto strettissimo con la Banca d'Italia, con la Fiat e con una grande banca americana che è la ZAR e con questi interlocutori ha tessuto una rete di rapporti in Italia e in sede internazionale che ha sorretto la grande industria italiana fino al momento della crisi che è poi cominciata negli ultimi anni. È un'età difficile da giudicare perché i giudizi sull'operato di Cuccia e di Mediobanca sono stati molto articolati e questo libro non chiuderà la discussione, semplicemente offre dei materiali, delle testimonianze, dei documenti che avevo raccolto nel corso degli anni per contribuire a una conoscenza migliore del personaggio, delle motivazioni, delle idee di Cuccia. Mediobanca non si può capire se non si ricorda la crisi dell'economia italiana negli anni 30, la grande crisi bancaria degli anni 30, il fallimento di tutte le grandi banche, la banca commerciale, il credito italiano e così via. Cuccia nasce nel dopoguerra con l'idea di costituire un elemento di supporto, come era stata la banca commerciale all'inizio del secolo, nella prima rivoluzione industriale, di supporto dello sviluppo economico e industriale italiano senza gli errori che avevano portato alla crisi delle grandi banche. La forza di Mediobanca e di Cuccia è la memoria storica, il fatto che Cuccia e Mattioli hanno costruito qualche cosa, Mediobanca, partendo da una conoscenza profondissima dei problemi del capitalismo italiano nella prima età del secolo. Questa è la ragione per cui Mediobanca è l'unica banca a medio termine che non ha mai avuto crisi nel corso del dopoguerra. Le altre sono scomparse tutte, l'Imi, gli Svemer, tutte le grandi banche a medio termine sono andate in crisi. Anche le banche commerciali hanno avuto la loro parte di crisi. Mediobanca per 50 anni è andata avanti senza difficoltà perché aveva queste radici molto profonde. Quello che ho cercato di fare nel libro è di presentare, di rendere conoscibile Enrico Cuccia. Enrico Cuccia aveva un'assoluta avversione, ostilità alla pubblicità, diciamo così. Non rifiutò sempre qualunque intervista, qualunque contatto con i giornalisti nel corso del dopoguerra. Addirittura Mediobanca, finché c'è stato Cuccia, non ha mai avuto un ufficio stampa. Non aveva rapporti con la stampa. Parlava soltanto con i fatti, diciamo così. E Cuccia coltivava la sua riservatezza a tal punto che in un certo senso ne ha pagato qualche conseguenza negativa. Perché siccome non davano mai informazioni sulle cose che facevano, se in un'operazione si scontrava con qualcuno e questo qualcuno aveva la peggio, allora le informazioni alla stampa le dava questo qualcuno, il quale naturalmente presentava le cose nel modo più favorevole a se stesso e nel modo contrario a Mediobanca. Quindi io ho cercato, non certo di… io non ho fatto la storia di Mediobanca, perché questa secondo me sarebbe stata anche meno interessante. Io ho parlato di un uomo, di un banchiere di grandissima dimensione, anche di un uomo di cultura di grandissima dimensione, che appartiene a una tradizione in Italia che risale a Beneduce, a Menichella, Mattioli, Cuccia, fanno parte di una, come posso dire, di una cordata ideale di uomini che hanno aiutato lo sviluppo economico italiano, ma venivano dal settore pubblico. Erano dei civil servant fondamentalmente, era gente che aveva un'alta visione delle funzioni dello Stato, dei compiti dello Stato. Non erano banchieri per il guadagno personale, erano banchieri nel senso che erano convinti che la banca fosse una parte essenziale di un progetto di sviluppo economico del Paese. Cinque sono i rapporti più importanti che Cuccia intrecciò. Uno è certamente con la Banca d'Italia, sia con Menichella, che fu governatore dal 1948 fino al 1960, sia con Carli, un po' meno con i successori, fino a Baffi, che erano uomini che Cuccia aveva conosciuto negli anni 30, quindi certamente la Banca d'Italia. L'Iri, fino a quando non c'è stata la degenerazione del Liri, cioè finché Liri ha funzionato bene sotto la presidenza di Petrilli i rapporti erano molto stretti, diventarono molto difficili quando diventò presidente del Liri Prodi. Lo scontro politico tra Mediobanca e Liri tra Cuccia e Prodi fu molto aspro e io lo racconto, ho cercato di ricostruirlo il più completamente possibile in questo libro. Il terzo fu Agnelli, la Fiat. Agnelli prese la guida della Fiat dopo Valletta nel 1965 e l'ha conservata fino agli anni 90 e con Cuccia si creò un rapporto molto profondo. Cuccia considerava la Fiat come il simbolo dell'industria privata e quindi fece tutto quello che poteva fare per cercare di tenerla in vita, di evitare una crisi della Fiat che avrebbe portato probabilmente a un'espansione ulteriore del sistema pubblico. E poi l'Azar, il rapporto internazionale con André Meyer, un banchiere di origine francese che viveva negli Stati Uniti e che rappresentava la banca Lazare negli Stati Uniti, con cui si creò un rapporto molto profondo. Naturalmente il quinto è il rapporto con Mattioli, da cui nacque Mediobanca e con cui ci fu un rapporto in qualche momento difficile, ma certamente molto importante per Cuccia e per Mediobanca. Cuccia aveva una memoria assolutamente straordinaria, era un uomo sorprendente, leggeva moltissimo, leggeva molto e ricordava i libri che aveva letto, era un lettore molto attento e poi aveva una memoria straordinaria, amava molto l'arte, non lo si sapeva. Un giorno, alla fine degli anni Sessanta, un imprenditore veronese andò a trovarlo a Mediobanca e prima di parlare di affari Cuccia gli parlò a lungo di certi affreschi che si trovavano in alcune chiese di Verona. Questo imprenditore, impressionato da questa conoscenza, disse ma lei è stata a Verona qualche giorno fa? Dice no, l'ultima volta ci sono stato nel 1928 perché aveva fatto il servizio militare a Verona nel Corpo degli Alpini nel 1928 e non era più tornato, ma ricordava. Questo è un episodio abbastanza impressionante, diciamo così. Io ho lavorato con Cuccia negli anni universitari, appena iscritta all'università Cuccia mi propose di andare a lavorare all'ufficio studi di Mediobanca. Io sapevo molto poco di economia a quel tempo, avevo iscritto alla facoltà di legge, accettai, veni a Milano e cominciai a lavorare con Cuccia. Poi, dopo essere stato all'estero molti anni, sono tornato a lavorare a Mediobanca per dirigere una società di ricerche economiche che aveva nel frattempo fondato e poi sono stato diventato amico negli anni, dopo essere diventato parlamentare, sono rimasto amico di Cuccia, fino a considerare questa una delle amicizie più importanti della mia vita, diciamo così, nel senso l'uomo era di straordinario ingegno, di grande passione civile, anche se non si vedeva sotto l'abito del banchiere, ma era un uomo che aveva fatto la sua parte nella resistenza, nelle file del partito d'azione, aveva compiuto delle missioni pericolose di cui non parlava mai, quindi era un uomo molto di più che non solo un banchiere. Grazie a tutti.